Allora, io ho iniziato sin da subito, nel senso che ho fatto la scuola alberghiera, perciò dal primo anno della scuola alberghiera cercavo di, cioè facevo, finivo l'anno scolastico, iniziavo la stagione estiva lavorativa e sia la stagione invernale, perciò tutti gli anni mentre andavo a scuola comunque ho sempre lavorato e gli ultimi due anni scolastici comunque ho fatto da privatista perché già lavoravo a tempo pieno. Sono sempre stato molto dedito, ecco questa è stata la mia più grande fortuna, credo, in questo lavoro. Sempre stato molto dedito e l'ho sempre vista come una cosa che mi rende felice, perciò da quando inizia, da quando ero in cucina con la mia mamma, ecco, quando la seguivo, se me mettessero fuori, quando mio fratello stava fuori con mio padre, macchina, io non so fare niente, però quando invece stavo a casa con la mia mamma, la seguivo, cercavo di vedere cosa facesse ed è una cosa che mi è sempre venuta in un, cioè l'ho sempre vissuta con leggerezza. La Sicilia mi ha permesso di poter lavorare col vegetale siciliano e di farmi capire quale potesse essere il risultato che mi potesse dare appunto questa materia prima. Cerco di lavorare proprio col prodotto più particolare che possa rappresentare il territorio e mi è piaciuto molto lavorare con la melanzana perlina, nel senso che comunque lavorando con le estrazioni cerco di arrivare alla vera identità del prodotto stesso, perciò cerco di, attraverso comunque lo zucchero del vegetale, di capire essenzialmente qual è il vero sapore di questo prodotto. La mia filosofia principale è legata comunque alla parola amore, dedizione, cura. Non credo nello stravolgimento del prodotto perché credo che ogni prodotto debba essere valorizzato per quello che è. Nel senso che comunque credo davvero nel fatto che si possa, e questo perché ho avuto la fortuna di poterlo testare tecnicamente parlando, si possa arrivare ad un risultato veramente eccellente senza dover aggiungere nient'altro se non il prodotto, la materia prima che è già eccellente di suo cercando di veramente di poterla valorizzare nel miglior modo possibile. La mia filosofia di cucina è, come dicevo prima, è sicuramente legata appunto a questa dedizione alla materia prima, a questa dedizione alla mia squadra, a questa dedizione a questa professione. Stamattina ad esempio sono stati al mercato a Comis, una cosa a cui tengo molto, perché cerco di andare dai piccoli produttori piuttosto che, ma cerco di andare insieme ad alcuni ragazzi a scegliere quale può essere la materia prima per la loro giornata, per le colazioni, per il principe, per il casapasta, per tutto quello che può essere il servizio che possiamo dare all'ospite. E io spero davvero di poter trasmettere a loro il desiderio di poter cercare la serenità nel fare tutto questo. Perciò sotto questo punto di vista abbiamo la grande fortuna di avere un'azienda che ci permette di poter vivere da questo punto di vista con serenità l'orario laborativo piuttosto che altro. Sicuramente è un lavoro che ti porta a passare le feste in cucina, piuttosto che a vivere le vacanze come un'opportunità per poter imparare altro. Ecco, perciò sicuramente questo sì. La mia forma menti, se io, anch'io sono stato in cucina dove comunque era difficile, potrebbe essere la parola giusta ecco, dove c'era comunque, entravi comunque col terrore di sbagliare qualcosa. Perché? Perché sbagliare qualcosa diventava un enorme sbaglio ecco. Però dandogli comunque il rigore, perché il rigore è fondamentale in cucina, comunque siamo in tanti, perciò bisogna mantenere un organigramma, bisogna mantenere un profilo, fondamentalmente deve esserci la parola rispetto, deve essere il faro ecco di tutti i ragazzi che gli permetteranno a loro volta di diventare degli chef. Ecco, non è saper fare solo il piatto, saper fare il tecnicismo, lavorare correttamente, essere dediti, anche guardarsi intorno, cercare di pensare all'ospite, di curare l'ospite, di sapere che comunque lo chef d'albergo è uno chef differente rispetto allo chef da ristorante, perciò devi essere dedito al fatto di pensare che comunque l'ospite c'è già alle colazioni, perciò avere l'interesse di uscire, di vedere, di sapere come funziona un buffet, di sapere come funziona un room service, di essere felice nel fare bene un club sandwich piuttosto che di fare un piatto stellato. Ecco, devi amare quello che fai e loro per poter trasmettere, credo che per poter diventare dei grandi chef loro, spero anch'io un giorno, devono veramente poter amare a fondo e a pieno quello che fanno.